Che cos'è il MES? Buongiorno e benvenuti ad un nuovo episodio della Finanza Amichevole. In queste settimane sentiamo parlare spesso del MES. Che cos'è e come funziona? MES è l'acronimo di Meccanismo Europeo di Stabilità ed è l'organizzazione composta dai ministri finanziari dell'area euro e da membri nominati dal direttivo, meglio conosciuto come Meccanismo di Aiuto del Fondo Salva Stati. In caso di necessità per salvaguardare la stabilità finanziaria di uno Stato oppure dell'intera area euro, il MES interviene per assistere quei paesi che sono in maggiore difficoltà. In poche parole, vengono concessi prestiti per poter rimettere in ordine la situazione economica di quel paese, come in passato è accaduto per Grecia, Portogallo, Irlanda e Cipro. L'aiuto potrebbe avvenire anche per la ricapitalizzazione delle banche oppure acquistando i titoli di Stato del paese in difficoltà. Il MES è finanziato da ogni paese aderente, in percentuale maggiore da quelli più solidi. La cifra massima che può essere utilizzata come aiuti è di 700 miliardi di euro. Una volta che viene richiesto l'aiuto, vengono stabilite le condizioni per poter accedere al fondo. Le condizioni riguardano quelle manovre da adottare per poter migliorare i punti deboli dell'economia di quel paese, intervenendo su riforme fiscali per stimolare la crescita e posti di lavoro, attraverso le privatizzazioni, tagli alla spesa pubblica oppure di riforme nel settore finanziario. La questione più spinosa riguardo il nuovo trattato e che ha provocato discussioni negli ultimi mesi riguarda l'eventuale possibilità di richiesta di ristrutturazione del debito pubblico per poter accedere al fondo, se tale debito dovesse diventare insostenibile per il paese interessato. In questi giorni si parla anche dell'emissione dei cosiddetti Covid Bond che servirebbero per poter finanziare il MES per concedere i prestiti ai singoli stati. Questa emissione di prestiti è comunque, a tutti gli effetti, debito pubblico che aumenta. Quindi siamo sicuri che sarebbe più corretto accedere al MES invece di nuove emissioni dei titoli di Stato del singolo paese? La cosa certa in questa fase è che tutte le banche centrali sono unite per poter sostenere in tutti i modi questa emergenza e che tutti i paesi sono coinvolti. Il dopo crisi porterà sicuramente una profonda riforma fiscale per stimolare la ripresa, il lavoro e la crescita economica costante. Questo, credo, come opinione personale, dovrà passare da una profonda rivisitazione dei processi produttivi e gestionali totalmente improntati sulla responsabilità e sulla sostenibilità degli investimenti e delle economie. La citazione di oggi è la seguente. Il mercato azionario è la storia dei cicli del comportamento umano responsabile di reazioni eccessive in entrambi le direzioni. Seth Klarman. Rendiamo la finanza amichevole. Vi aspetto.